Ha risposto bene la sanità veneta al covid? Sentire e vedere sì. Per me sì, anche perché io sono stato colpito, però in 20 giorni me la sono cavata. E' soddisfatto? Attraverso medico personale, diciamo, medico in famiglia, e poi la fiera e tutto quello che si sentiva per cercare di rimediare il più possibile. Quindi la promuove la sanità veneta? Penso proprio di sì. Sì, ho avuto qualche visita, sono andata bene perché le visite erano limitate, trovi meno gente ad aspettare. Però c'è stata la possibilità di fare anche le visite? Sì, sì, quello che serviva sì. Infatti adesso non è un'altra settimana prossima, spero. La promuove la sanità veneta in tema covid? Sì, sì. Ha risposto bene a quella che è l'emergenza? Sì, esatto, sì, anche sta continuando, insomma, mi sembra. Quindi la promuoviamo? Sì. Secondo me sì, a parte che sì, i tamponi li fanno a chi serve, è giusto e chi ne ha bisogno. E la promuove oppure no? No, va bene, secondo me va bene, tutto funziona bene.